Dati contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Verrà il tempo in cui un estraneo potrebbe riuscire a convincervi di entrare nella sua macchina, continuò il vecchio pelato con la sua voce amichevole, e se dovesse succedervi potrebbe portarvi via in un posto così lontano da casa vostra che non saprete come tornare indietro. Maria sembrava ipnotizzata dal programma, non sembrava che si fosse accorta di niente, meglio così, stava stringendo il manico del martello così fortemente che le vende del braccio gli pulsavano. Il fuoco del suo animo si era tramutato in un inferno furioso, ma ben presto avrebbe avuto la capacità di spegnerlo. Con le fortissime martellate avrebbe fatto estinguere la fiamma, riducendola a braci soffocate. Eventualmente sarebbero risorte come la fenice rinata, ma almeno per un po' di tempo si sarebbe goduto la pace. Il vecchio alla tv serrò gli occhi direttamente verso la camera. Ora, se hai paura, ascoltami bene, Maria. La bocca si spalancò. Per un attimo perse di mano il martello quando sentì quella frase. Ma, ma era impazzito. O Billy Smiley si era rivolto direttamente a Maria. I nervi del collo si strinsero. No, doveva esserci un burattino nello show con lo stesso nome. O magari era un'allucinazione stavolta. I suoi nervi stavano veramente dando i numeri. La sua astinenza lo stava facendo letteralmente impazzire. Le fiamme dentro di lui dovevano bruciargli il cervello, mandando il tilt e la sua percezione di realtà. Deve tirare una martellata, maledizione. Tira la martellata. Tira la martellata e falla finita. Il fuoco se ne andrà via e tutto avrà di nuovo senso. Prese un respiro profondo per riacquistare il controllo, diede un'occhiata alla bambina. sembrava completamente tranquilla. Non aveva notato niente di strano. Maria stava fissando intensamente la tv nello stesso modo che fanno tutti i bambini concentrati nel loro programma televisivo preferito. Quindi lo sguardo tornò su Billy. Sei stata bloccata con uno sconosciuto e vuoi tornare a casa. Basta che chiudi gli occhi. Così. Smiley portò le mani sugli occhi per dimostrarlo. Tienili ben chiusi adesso. Non sbirciare e non aprirli di nuovo, neanche durante quello che sentirai. Tienili chiusi finché non ti sentirai di nuovo al sicuro. Anche i burattini si coprirono gli occhi con le loro zampe come fece Billy. Ma che razza di consiglio era? Non c'era da sorprendersi se quel programma fu cancellato, se dava lezioni così pessime ai bambini. Chiunque stesse ritrasmettendo il programma deve non aver revisionato tutti gli episodi o qualcosa del genere. Rigettò lo sguardo su Maria e notò che stava tenendo gli occhi coperti con le mani come le aveva detto Billy. Quindi aveva paura. Tuttavia lo calmò. Vedere una reazione normale lo riportò alla realtà e gli fece fieramente ricordare che era lui al potere. «O cielo!» disse improvvisamente il vecchietto scoprendo gli occhi e alzandosi di fretta dalla sua sedia. La camera lo seguì mentre si faceva cautamente strada fra i burattini per andare a guardare la finestra. «A quanto sembra c'è un visitatore qui al vicinato». La camera si staccò sulla visuale al di fuori della finestra e quello che inquadrò lo fece quasi cadere in ginocchio. Qualche volta nel programma Billy riceveva degli ospiti speciali che venivano a fare visita apparendo sul giardino anteriore della sua casa era sempre tutto soleggiato e felice nel vicinato. Delle belle case colorate di pastello stavano allineate lungo il vicolo cieco del quartiere con cespugli e giardini tagliati a perfezione e delle candide staccionate bianche che separavano le case e le cassette postali. Un ambiente americano idealistico in cui spesso sognava di abitare, in cui i suoi compagni di classe non lo prendevano in giro e suo padre non lo maltrattava dopo aver bevuto troppo whisky. Ma c'era qualcosa di diverso nel vicinato ad esso. Una cosa spaventosa, una cosa terribile, una visuale che gli faceva venire il cuore in gola. Di fronte alla casa di Billy c'era un rimorchio. Dall'aspetto fin troppo moderno per essere degli anni 80, peggio ancora un rimorchio che seppe riconoscere da subito. Come poteva sbagliarsi? Era esattamente lo stesso rimorchio in cui si trovava con Maria, che intanto stava ancora ferma con gli occhi chiusi e coperti dalle sue mani. Lo sguardo setto di nuovo sul rimorchio che si vedeva in tv. Era forse di qualcun altro? No, non poteva essere che il suo. Ma come era possibile che lo vedesse sullo schermo allo stesso momento? Era forse uno scherzo? Una nuova edizione malada di tocchiace predator? Guardò scombussolato mentre il vecchio batte il dito ssuto sul vetro della finestra. Andiamo fuori a dargli il benvenuto, dai! Non poteva essere uno show. Era sicuro al cento per cento che l'uomo in televisione non fosse un impostore. Era il vero Billy Smiley. Ne era certo. Ma come è possibile che abbia lo stesso identico aspetto di quasi quarant'anni prima? Corse freneticamente al finestrino, sperando di vedere l'oscurata strada notturna in cui c'erano i teppisti, gli spacciatori, qualsiasi cosa che potesse riportarlo alla realtà. Un senza tetto, un cane randaggio, una macchina abbandonata, un lampione spento, il negozio vuoto, un bidone dell'immondizia in fiamme, qualunque cosa. Sbirciò attraverso le persiane e fu abbagliato dalla luce del giorno. I giardini verdi, le immacolate case colorate a pastello e le cassette postali lucidi, le staccionate bianche perfettamente allineate. Fosse stato ancora un bambino, a questa visuale lo avrebbe confortato, ma adesso avvertiva solo il terrore più puro percorregli il corpo. Non aveva la più pallida idea di come fosse possibile, ma non c'erano dubbi, in qualche modo era parcheggiato nel vicinato di Billy Smiley. La porta principale di una delle case si aprì e non credetta ai suoi occhi quando vide uscire fuori l'uomo che adorava guardare quando era bambino e vederlo incamminarsi lungo il marciapiede verso il rimorchio. Mollò le persiane e barcollò indietro collassando sulla poltrona. In tv la camera era ancora fissata sull'inquadratura della finestra della casa di Billy. Si vedeva chiaramente il vecchio che camminava avvicinandosi al rimorchio. Maria stava ancora seduta al suo fianco con gli occhi coperti. Ne sai qualcosa? Le chiese. Non rispose. Maria poteva anche essere una stato a questo punto. E se fosse stata lei la causa di tutto questo? Magari se le avesse spaccato il cranio tutta questa stregoneria finirebbe di punto in bianco, a meno che non fosse veramente opera sua. Forse era davvero il programma, o un fantasma, o una specie di fenomeno extradimensionale che non gli riusciva a comprendere. Ma smise di pensarci, in quel momento aveva il martello e poteva fare una sola cosa con esso per tentare una via di salvezza. Si rialzò dinanzi alla bambina e lo sollevò intenzionato a colpirla alla tempia. Se questo non avesse interrotto questo incubo almeno avrebbe potuto calmare le fiamme che lo stavano ancora rodendo, nonostante gli eventi innaturali che lo circondavano. Magari dopo averlo fatto avrebbe potuto pensare più chiaramente e ideare una via di fuga.